ciao a tutti farfalline e banane da esaurita pazza ciao ciao ragazzi allora oggi è mio compleanno 16 aprile e come avevo detto nell'altro video precedente che appena facevo gli anni che mi regalavano mi facevano dei regali su ttok aprivi i regali adesso vi faccio vedere i regali che ho ricevuto dai miei follower e niente che vi ho detto che vi faccio vedere li ho già scartati e per curiosità vi faccio vedere va bene non so cosa dire se per la stessa cosa dico e volevo dire anche un'altra cosa ho avuto molti molte molte persone che trovami live il giorno di compleanno alla mezzanotte che è scatata la mezzanotte tanti che mi hanno fatto gli auguri ringrazio a tutti veramente grazie di cuore che mi ha fatto delle donazioni che mi ha fatto tanti gli auguri adesso iniziamo con i pacchi e comunque ragazzi se vi piacciono i miei video se che faccio video come si dice sotto alla spesa degli assaggi faccio iscrivetevi ragazzi mettete tanti like fate tanti visual così arrivo a 4000 ore di visual e voglio essere sincera youtube mi può pagare fatemi arrivare almeno 1000 con queste visual comunque ragazzi adesso iniziamo con i regali ricevuti avevo fatto creato ho creato una lista di iscriviti su amazon chi volesse farmi anche dei regali anche se non è oggi se non è più il mio compleanno chi volesse sempre fare un regalo faccio cliccare l'info box di youtube ragazzi allora questo è il regalo del spettanetto no aspettate aspettate faccio prima vedere questo qua allora siccome io problemi ai capelli mi hanno fatto il regalo aspetta che do mettere la crema per i capelli con olio d'argan trattamento intenso liscio perfetto per capelli liscio senza effetto crespo questo la crema la maschera per i capelli così me li curo come avevo detto nell'altro video che che per me le loro bruciate mi sto curando mi hanno mandato queste fatte nella lista regale avevo messo questo e poi aspettato un attimo e poi 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 l'altro pacco sempre la stessa persona poi vi faccio vedere dove sono le lettere perché avevo fatto già riscattamente le lettere non l'ho messo bene ecco qui e anche il peggio per per quando faccio il colore cioè pezzarvi allora questi due qua me li ha regalati aspettate un attimo aiuto il biglietto dov'è ragazzi sono una grande passizione mi sta vedere che il biglietto non troppo allora vediamo qui qui che fine ha fatto il biglietto aspettate ho perso il biglietto aspettato un attimo ragazzi appoggiamo qua adesso poi ribaldisco ancora mi sento lasciato dire in cucina perché ieri ho fatto gli scattamenti in cucina andiamo a prenderlo un attimo oddio vediamo se c'è il foglietto qua ma no non c'è non c'è il biglietto dov'è il foglietto vabbè arrivo era attaccato il cartone ma no quello lì non è attaccato vabbè vediamo se l'oletro sono un grande passizione in cucco allora cerchiamoli dentro dentro questo non è questo non è e via mettiamo sicuramente continuo di guardare certo l'ho trovato ragazzi l'ho trovato ho trovato il biglietto allora questo è il regalo me l'ha fatto un regalo da maria grazia goditi il tuo regalo ti voglio bene tanti auguri di buon compleanno da maria grazia piccola poliettina me l'ha regalato i polli questi la piccola poliettina grazie polli mi servono proprio per i capelli grazie ti voglio bene polli poi mettiamo qua adesso mi chiamo posto e poi ecco questo è il cartone di poi ci avevo altro fatto qua ok questo è un foglio e questo mi hanno regato la cover dove tutto quello che era nella lista regali è comunque mi hanno regalato quella che c'era nella lista regali che avevo fatto la cover del cellulare ragazzi guardate che bella guardate ragazzi guarda con l'anello come piace a me bellissima questa sempre sempre la solita persona che in cui adesso vi faccio vedere adesso sto mettendo posto aspettate e poi tirò fuori tiriamo via carta mi hanno regalato due sacchettini qua guardate che belli bellissimi questo e questi due sacchettini che posso mettere i gioielli dentro gioielli guardate che bella stupendo guardate che cosa sono braccialetti sono dei braccialettini ma sono veramente belli ragazzi aspettate un attimo mi scivola tutto qui io sono una grande pasticciona spero di non fare più danni questi braccialetti guardate che bella ah questo gancetto bellissimo bello vero ragazzi intanto ragazzi vi volevo chiedere di iscrivervi al mio canale se vi piacciono i video e fare anche passaparola con un'altra persona con i vostri amici così aumenta ragazzi fatemi aumentare così faccio anche dei live su youtube è questo qua adesso sto scappando l'altro braccialetto guardate che bello ragazzi che meraviglia non so se si vede bene facciamo così guarda bellissimo ragazzi stra bello grazie e questo me l'ha regalato gabriele grazie gabriele ti voglio grazie siccome le collane ho detto siccome ne ho talmente tante le collane non me le regalavo adesso mi strozzavo e mi hanno fatto i braccialetti i braccialetti proprio sono quelli che mi mancano perché ne ho solo uno di braccialetto non l'avete visto non solo uno di braccialetto gabrie folli vi voglio bene ragazzi vi voglio bene ragazzi vi voglio bene e grazie tanto dei regali folli e dei regali gabrie e ringrazio tutti gli iscritti che sono al mio canale qui su youtube ragazzi vi raccomando fate passaparola con altri vostri amici fatemi crescere in questo canale così al mio faccio dei live faccio altri video e faccio video divertenti dai ragazzi andate a mettere qua lì questo qua prima dove già inizio a fare pasticcio dove che sarà non mi ricordo più ecco come sempre dov'è ho perso ah eccolo glielo infiliamo dentro la bustina e poi oggi se tutto va bene perché non lo saprei se tutto va bene esco con i miei follower e mi sa che oggi mi indosserò questi vediamo in occasione oggi mi indosserò questi qua la cover dove se funziona se si sta bene il mio telefono penso di sì perché l'avevo scritto ecco raga no ma veramente belli belli i regali tutti quelli che ho ricevuto i regali che ho ricevuto guarda un grande pasticcione ho già perso sto già perdendo questo aspettate chiudo bene grazie grazie veramente grazie dei regali ricevuti e è tutto qui ragazzi ecco allora ragazzi io come avevo detto ho fatto gli scattamenti tramite tiktok e avevo detto che vi facevo vedere i regali ve li ho fatti vedere e vi raccomando ragazzi tanti like iscrivetevi e fate visual per favore ragazzi così devo arrivare a monetizzare anche qua su youtube quando arrivo a mila iscritti ciao baci ciao ciao baci ciao